Ehi la ciurma, io sono la ZTS e ben ritrovati qui in questo nuovo episodio di Expeditions Rome. Allora c'è una roba segnata dal segnalino della missione, per cui andrei più che altro a lasciarla per dopo, cercherei di capire cos'è invece questa roba qua illuminata. Passaggio segreto forse. Missing item, ok. Allora dobbiamo per forza passare di là. Poi c'è altra roba, non vedo niente di evidenziato, per cui direi di no. Ah, dobbiamo prendere il piccone, ovvio. Allora la lettera ci dirà che c'è una parete finta e prendiamo il piccone e l'apriamo. Ehm... Eh, probabilmente è cifrato, sì. Deve significare qualcosa, sono sicuro. Allora, prendiamo la piccozza qua. Ah, quella è la sala del sarcophago, praticamente. Ah, grazie che mi avete illuminato là. Lo so che c'è qua. La... la lama del meteorite. La daga di Tutankhamon. Ok, possiamo andare a cercare di capire... con un fabbro come riforgiare questa... No, quindi niente, abbiamo aperto... abbiamo saccheggiato la tomba di Tutankhamon. non va bene. In genere dicono che non porti così tanto bene, ma... Sono leggende, no? Eccoci. Sì, usciamo da sta piramide. Ok. Parla con un fabbro, con chi parliamo? Con il nostro fabbro, no? Le altre... Le giorni dove sono a fare la caccia? Eh sì, c'è sempre sto bug che quando torni non vedi più nessuno. Allora, una sì, ma l'altra è qua, casina. Scusa, tu che sei qua? Non puoi andare... Tipo... Qua? Ok, noi intanto torniamo al campo. Ah, c'è una tannery là, ok. Entriamo, sì. E proviamo a parlare con Fabbro, a vedere cosa ci dice lui. Prova? Pronto? Ci siamo? Ok. Proviamo a parlare con Fabbro per sta lama di Tutankhamen. Unspent? Eh? Ah, ok. Ehm, meglio il nostro sistema, possiamo usarlo? Ehm, quindi è una lista di pagamenti? Beh, lui aveva parlato di quello. Esatto. Per spie. Eh, me lo aspettavo, ma speravo di essermi sbagliato. Quanti ce ne abbiamo? Almeno tre. Non sapeva se la lista è completa. Ehm, è vero, sono tatuati. Ehm, va bene, qui un'assemblea generale. Onorevoli legionari di Roma. Ehm, è un giorno scuro oggi. E quello che sto per dire davvero mi spezza il cuore. Eh, il tradimento è una realtà sfortunata della vita di guerra. Non era... Non è mai attesa, ma dobbiamo sempre restare vigilanti contro gli assabi. Visto che siamo stati vigilanti oggi, adesso sappiamo chi sono i traditori tra di noi. Penso che nessuno sia oltre al... Cioè che non possa avere una seconda possibilità, insomma. Quelli che servono un altro padrone, sapete chi siete. Vi darò una sola possibilità per venire avanti e chiedere perdono. Qualcuno urla arrabbiato in un linguaggio che non conoscevi facilmente. Ci sono dei... Ah, i legionari sapevano già dell'esistenza di traditori. Ma non c'è stata azione su questi rumori. Finalmente un po' di legionari si separano dagli altri guardandoti con un cenno di scusa. Mi sono di legionari. Non si parla di legionari. Mi sono ori, se non ti c'è la parte a di legionari. Ma non ti c'è la parte a di legionari di legionari di legionari. Migliaia di uomini nudi ti fissano. Alcuni di quelli che sono dei traditori cercano di scusarsi, altri invece sono più sprezzanti. Ah, e queste sono le scelte difficili. Per la seconda che li cacciamo, prima vengono uccisi a morte a fustigate dai loro commilitoni, la seconda li cacciamo e non solo perdono anche la cittadinanza romana e la terza invece li perdoniamo, farei la via di mezzo. Eh, sì. Se riusciamo a collegare l'urco alla legione Vixie potrebbe essere la sua fine, il senato non approverebbe mai una cosa del genere. Sì, è molto più furbo, non lascia tracce. Ah, ok, da dove li trova i soldi per pagarli? Ah, dei traffici criminali qua in Egitto. Se c'era una lista di pagamenti ce ne saranno di più. Continua a indagare, Calida, abbiamo bisogno di collegare l'urco a questa operazione. Va bene, grazie. Non è possibile. Ok, abbiamo finito la quest e ci ha dato anche una keybmend per sta roba qua. Tutti abbiamo guadagnato dei punti exp così possiamo livellare. C'è per caso del... No. Ad è che si repleniscia sto ticcio. Proviamo a parlare con il nostro fabbro di fiducia, vedere se lui va bene, cioè se lui sa qualcosa di starma. Eh, ecco, cosa ne sai di questa daga antica? Eh, in una vecchia tomba. È vero, infatti. Va bene. Ha detto a Memphis, ma noi non siamo mica ancora andati a Memphis, no? Va bene. Va bene. Livelliamo... Ah, DNA era il solito livello grande DNA. Miglior DNA che abbia mai conosciuto. Cosa che è questa? Un defending. Non ce ne frega un ganché. Ah, quello dell'armatura che la appesantisce meno, ci sta. C'è Ranius Rebellius che gli diamo un... Ruse diminuisce il morale. Bene. E a Arius gli diamo della vita, che dice? Sì, fa sempre bene della vita in più. E... No, cosa che c'è ancora? Ah, degli reinventori. Degli reinventori nuovo. Va bene. Niente di... Definitivo. Memphis, però... Ce l'abbiamo a Memphis? Non ce l'abbiamo mica ancora a Memphis, mi sa. Eh? Perché sa che dobbiamo pigliarla adesso che pigliamo l'Egitto. Sarà questa città grande accanto, perché non è di sicuro Alessandria, visto che Alessandria è sul mare. Allora, facciamo che... La regione sta andando a prendere cibo. Va bene. Noi andiamo in là. Ah no? Ci ha detto... Ah, una lettera da Cleopatra. Ok, doveva incontrarci alla corte per... Eh... Eh... Va bene. Appena posso vado. Dai, Mildly Disapprove. Non voglio mica essere arrogante con Cleopatra. Allora, piccato la Frorum è tornata a casa. No, non ho ancora. Ah, ecco, infatti, Memphis è quella città là. Eh... La Frorum può andare a fare un po' di caccia da qualche parte. Qua, sì. Bra... Bravi. A Frorum, andate qua. Eh... Così noi siamo messi un po' meglio come cibo. Eh... Truppa normale là da attaccare quella. Perché quante... Cosa ci mancano qua? 9 su 12. Ok. Quindi quella sarebbe 10 e poi ce ne mancherebbero due. Che saranno una e una due. Immagino. Eh... Andiamo a Memphis, ciò che ci siamo. Ci sarà un fracco di roba da fare dentro Memphis, immagino, ma... Eh... Per ora limitiamoci a parlare con il Fabbro. Andiamo. Siamo pronti. Andiamo. Siamo pronti. Ecco. Dovremmo esplorarla per benino, ma mi sa che oggi non abbiamo tempo. Anche vorrei... Eh... Aspetta, facciamo... No, voglio fare il track dell'altra quest. Perché magari ci indica qua dove... No, eh. Però si riconoscerà un Fabbro, no? Spero. Ah, yeah. Ma io sto già con Callida, posso... Oh, io ci ho provato, eh. Poi si parisce male. Lo vuole ammazzare. Allora, vediamo un attimo. Si. Allora, vediamo un attimo. Intanto, eh... Piliamogli I soldi che c'ha Perché se poi ce lo secca Trovo 3 e 16 Vabbè Ehm Andrei con questa 500 denari Oh That's very generous I can't turn down an offer like that Very well Let's talk over there Behind those buildings Why are they running around Armed Are they afraid of being attacked In the middle of the city Romans show off by displaying their weapons Hello Habrom Hello I'm sorry Have we met Do not play idiot We are well acquainted My name is Deanera But you know me as Zerechi 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 You must have me mistaken for someone else I've never You killed my sister No I didn't All right Yes I remember you I did not kill your sister Where is serious now Tell me I haven't seen him in years Last time I heard He was back in Rome He holds an important position In the collegium Bacchus Ok Ok Quindi Deanera L'ha accusato di aver ucciso Sua sorella Adesso gli chiede di un uomo E lui dice che è a Rome Sapevo che l'avrebbe ammazzato Zerechi Ok E chi è questo uomo di cui parli? Ci sono tre uomini che si uccidano Prima Un uomo che ci ha trattato Con vino e parole L'ha morto quando ci ha attaccato Ah Secondo Un uomo che mi ha portato in caglio E mi venduto a Damianos Questo uomo Hebron Ce l'hanno catturato E poi le hanno vendute I miei schiavi Un uomo che ha ucciso La mia sister Quando abbiamo combato Silvius L'ho troppo In Roma Non puoi però uccidere delle persone Così mentre lavori con me Almeno dovresti avermi chiesto il permesso Ma il collegio di invacco È stato dichiarato fuori legge Sembra di conoscerli bene Ah Guarda che avevano partecipato alle robe Chi lo conduce? Ah sono tutti i segreti Conciuto il segreto Dove si incontrano? Sarà difficile trovarli Ok Fanno ogni momento Non posso Non posso saccheggiare C'avevi i miei 500 denari sopra? C'avevi i miei 500 denari Che gli avevo pagato Per venire in là Sì va bene Io sto cercando un fabbro Signore Dov'è questo? Fa proprio C'è una vagonata di mercanti qua Flytrader No Alchemist No La si esce Non so di qua magari Qui là c'è altre cose Di città Di qui No è la tua selezione Sto cercando un fabbro Mi scusi Ci sta Dove cappero lo hanno messo il fabbro qua? Che non sia nella parte alta? Non credo Ah smith Eccolo smith Smith Ah si effettivamente C'ho delle spade Sembrano dei pesci Dove sono? Ok Dai ci sono già 24 minuti Sono 24 minuti Per risolviamo Questa cosa veloce Ma non voglio Ah Va bene Ah non sa parlare molto bene con la gente Va bene Allora ho trovato una daga Che è fatta di materiale che non ho mai visto Si Ho trovato questo Ho trovato questo Lo legendario Daggero di Tutankhamen Forgato Dalla di Metal Ti vuol dire Che hai rubato Dalla di sua tomba Eeeh Non lo ho presa da una tomba L'ho presa da un bandito Magari lui l'aveva rubata Va bene Ci farò attenzione Ok C'è un posto dove Sperita della gente Non lontano da qua Ah ok Ok vabbè Mi dobbiamo andare a vedere La tomba di questo Tizio Ok va bene Allora Steve va bene il pesce D'accordo Poi lo guarderemo Una prossima volta Perché adesso Io vi saluto Vi invito come al solito A lasciare un mi piace Un commento qua sotto Se il video vi fosse piaciuto Iscrivervi Per restare aggiornati Su tutti i video Ciao a tutti Buona giornata Ciao a tutti Ciao a tutti